quando mi è giunta la proposta di partecipare a questo convegno e insieme alla notizia del tema la scelta del titolo è stata pressoché immediata. Ho scelto di indagare l'uso e il senso delle espressioni axio anime, axio intellectus nei dibattiti psicologici del duecento. Sono espressioni che mi ronzavano in testa da tempo e ho pensato che fosse l'occasione giusta per iniziare a lavorarci. La relazione che vi presento stamani si articola dunque in due parti. Nella prima parte vi presento una sintetica ricognizione che non ha nessun, come dire, non vuole essere né esaustiva né dimostrativa di alcunché, serve solo ad introdurre la seconda ed è stata effettuata mediante alcuni sondaggi sull'uso e il significato prevalenti delle espressioni axio anime, axio intellectus, nelle principali e più immediate fonti degli scritti d'anima dell'epoca, ossia il d'anima d'aristotele nelle sue diverse traduzioni con un piccolissimo assaggio del liber d'anima di Avicenna che naturalmente è una delle fonti principali. In questo senso la mia relazione si interseca e anzi eh come dire si si collega, si integra con quella già esposta ieri da Giulie. Nella seconda parte presento invece l'uso specifico delle espressioni in due commenti al d'anima prodotti da maestri delle arti per verificare il modo con cui queste espressioni entrano nei dibattiti psicologici del tredicesimo secolo. La parte prima vedete eh vedete davanti una vi trovate una tabella fa riferimento alla traslazio vetus del de anima. Qui l'uso delle espressioni axio anime, axio intellectus, intellectus come vedete è pressoché inesistente. In generale l'uso del termine axio è molto contenuto. Complessivamente si può affermare che esso è quasi sempre legato al suo significato in ambito morale pratico e in qualche caso addirittura ha reso direttamente con la traslitterazione del termine greco corrispondente praxis o anche direttamente in carattere greci se vedete le ultime due righe ehm in eh alcuni casi la seconda e la terza riga invece è usato per rendere poiesis come si vede appunto in queste due occorrenze del terzo libro laddove eh anche l'uso di Aristotele naturalmente è è poco come dire no no poco coerente ovviamente ma in questo caso funziona credo abbastanza perché la produzione stiamo parlando del sensibile e quindi la produzione della cosiddetta specie sensibile eh eh da segnalare segnalo solo brevemente i limiti di questo tipo di indagine nella traslazio vetus noi sappiamo che purtroppo non abbiamo a disposizione l'edizione critica cioè non abbiamo l'apparato critico è presente solo il testo così come stabilito nell'aristoteles latinus database ho ragione di pensare che proprio non esista la eh l'apparato critico soprattutto del terzo libro e in assenza di questo una ricerca di questo tipo non può che essere molto parziale perché naturalmente è incapace di recuperare le lezioni alternative del testo e neppure i segnali di evoluzione nella sua trasmissione. Il secondo la seconda tabella come potete vedere presenta eh una eh situazione analoga eh il termine azione la nova del de anima eh come vedete eh sono spariti i termini greci eh così come diciamo sono stati invece recuperati quelli che erano le perifrasi no tipiche di di Giacomo da Venezia da id est attuale diventa direttamente attuale il termine quindi anche in questo caso eh sembra che la revisione effettuata sul testo greco riguarda il nostro tema non ha condotto a modifiche decisive per le differenze fra le due traduzioni naturalmente rimando alle sezioni apposite della eh dell'introduzione di Gautier alla sentenza Libri di Anima di Tommaso. La il quadro cambia invece con la traduzione eh arabo latina quella che accompagna il grande commento di Averroè dove il termine axio eh forse si può anche scorrere vediamo il termine axio e sue derivate ricorrono con notevole frequenza aprendosi a un campo semantico molto più ampio. Qui axio può rendere anche ergon e energeia ovvero opus operazio sono i termini che normalmente vengono usati nella vetus e nella nova o anche actus. Di qui il rapidissima crescersi nella frequenza delle occorrenze. In generale dunque axio è impiegato in tutti quei significati che genericamente possono intendersi come attività. Le espressioni axio anime axio intellectus si trovano dunque con notevole frequenza e a questo testo penso sia dovuta perciò la rapida espansione delle espressioni axio anime axio intellectus nei commenti al de anima e più in generale nei dibattiti psicologici del tredicesimo secolo. All'influsso della traduzione arabo latina si somma e mi pare svolga un ruolo decisivo quello del grande commento di Averroè. Quello del commento vero e proprio. In quest'ultimo le suddette espressioni ricorrono continuamente. Si può fare una veloce indagine io non l'ho neanche riportato perché passi ma veramente in tutte le pagine si si trovano queste espressioni. Infine ed è l'ultima tabella poi basta la che riguarda invece liberde anima seo sexus de naturalibus un'altra delle prime fonti delle primissime fonti le espressioni axio axio nes anime ricorrono con una certa frequenza soprattutto il riferimento all'attualizzazione delle capacità operative cioè delle vires dell'anima. La coppia concettuale privilegiata che mi pare di poter individuare è quella vires axiones come appare chiaro già dalla prima occorrenza dove a vicenda siamo nel primo libro capitolo 4 programmaticamente espone l'impostazione del suo tattato come vedete dimostreremo quindi le vires anime et et eius axiones. Si trovano poi occorrenze che dell'espressione fanno un uso molto libero e vi invito a verificare nella penultima riga dove appunto trovate le le divisiones axionum anime nutrire generare dopodiché il riferimento alle azioni degli animali sentire immaginare e così via addirittura poi le azioni sproprio o meno ma le azioni che sono proprie dell'uomo. Come si nota da questa breve ricognizione i commentatori latini del de anima hanno gioco facile nel fare del termine axio un uso amplissimo sostanzialmente usato come sinonimo di operazio e così anche si si rintraccia nella nella nell'arabico latina opus ma anche actus quindi in generale per ogni attività che è attribuibile di volta in volta all'essere umano all'anima o a qualche sua capacità operativa quindi anche all'intelletto. Inizio qui la parte seconda che come vedete è provocatoriamente intitolata axio anime axio intellectus vel aut sunt axiones ominis questioni di soggetto. Per condensare al massimo la trattazione su un tema che è amplissimo e ho fatto una notevole fatica nel tagliare eh Julie lo sa perché la settimana scorsa mi ha contattato e le ho detto sto tagliando eh di cosa ti occupi sto tagliando questa è stata la risposta. Per condensare la trattazione in questa seconda parte che è di taglio più concettuale in cui vedremo come proveremo a vedere il modo con cui l'espressione axio anime axio intellectus entrano nei dibattiti psicologici del duecento ho scelto di concentrarmi su un passo in realtà sono tre ma insomma tra loro collegati molto noto del primo libro del de anima dove Aristotele tratta le passioni dell'anima o anche le sue axiones termini che come abbiamo visto è usato come perfetto correlativo è il punto in cui egli pone la questione se sia più corretto riferire tali passioni o axiones al composto di anime corpo quindi all'uomo piuttosto che alla sola anima ed è il testo uno io qui testo uno e testo due li ho tratti dalla traslazio vetus se volete poi possiamo vedere anche l'ara volatina naturalmente ed è il passo quello famoso sull'ira in cui Aristotele dice che dire che l'anima sia d'ira è come dire che l'anima tesse o costruisce melius anim fortassi fortassi non dicere anima miserere autadiscere aut intelligere aut intelligere autem in anima il passo un seguito altrettanto noto ed è quello che tocca lo statuto dell'intelletto qui leggo veramente a breve la lettura intelligere autem et amare autodire non suon tellius passiones cioè dell'anima sed uius ab entis illud secondum quod illud abet intellectus autem è la fine diciamo del passo è nota fortassi divino malicod et impassibile est le passioni cui Aristotele si riferisce nei due passi sono tutte umane adirarsi aver pietà apprendere intelligere cioè intendere o pensare presente in entrambi i passi amare odiare in principio egli non sembra non sembra distinguere tra i diversi tipi di passioni azioni dato che il discorso muove da un punto comune l'incorruttibilità delle funzioni dell'anima la cui perdita è dovuta come nel caso dell'occhio del senex al deperimento degli organi ad essi associati solo nella nota conclusione Aristotele suggerisce la distinzione l'intelletto è forse fortasse qualcosa di divino impassibile ammettendo implicitamente che l'intelligere possa essere una funzione inorganica e che dunque l'intelletto intrattenga con il corpo umano una relazione differente rispetto a tutte le altre capacità operative che normalmente sono riferite all'anima i commentatori come vedremo affrontano il punto collegandolo ad uno precedente altrettanto noto e già citato nella prima parte della relazione l'abbiamo visto sopra nella seconda riga della tabella della traslazio dell'arabico latina e l'edizione Crawford pagina diciotto che concerne la possibilità che l'anima possieda una passione o azione propria e che perciò possa essere astratta ossia separabile mi riferisco ad anima 403 a 10 11 dicamus igitur quod si alico actionum out passionum anime sit propria sibi possibile est ut sit abstracta sono tre passi che leggono insieme mettendoli insieme siamo dunque su un nodo teorico di importanza centrale presente nel primo libro che i commentatori provano a sciogliere per rispondere a una serie di dubbi il primo quale sia il soggetto delle passioni azioni normalmente ascritte all'anima cioè se l'anima o l'essere umano due se l'anima umana possieda effettivamente una passione azione che le sia propria ovvero indipendente dal corpo tre se l'intelletto sia impassibile o astratto o separato dal corpo o divino o immortale o detto in un altro modo ancora se provenga ab extrinsico sono tutte espressioni che si trovano normalmente a questa altezza cioè nel primo libro non nel terzo e in relazione a ciò quale sia la sua specifica differenza rispetto alle altre capacità operative dell'anima tutti questi interrogativi ruotano intorno a un nucleo concettuale centrale che è la specificità e la differenza del rapporto intelletto corpo rispetto a tutte le altre funzioni dell'anima in primis quelle sensibili e conseguentemente in quali termini vada intesa la costituzione dell'essere umano come composto diverso e speciale rispetto a tutte le altre specie viventi un composto speciale l'omo che si definisce come tale perché in grado di svolgere un'attività o azione del tutto sui generis l'intelligere mi si perdone la lunghezza della premessa aristotelica ma è indispensabile notare che già in de anima e qui in particolare ci stiamo riferendo alle sue traduzioni latine tutti questi punti sono espressi in forma dubitativa o ipotetica dallo stesso aristotele vi prego di verificare il testo 1 melius anim fortasis est non dicere anima miserere il testo 2 intellectus autem fortasis divinum aliquo det impassibile est ma anche come già segnalato in precedenza e a 403 a 10 11 si aliquo actionum out passionum anime sit propria sibi possibile est ut sit abstracta nell'orientarsi in questa intricata silva di proposizioni ipotetiche e dubbie talora interdipendenti l'una dall'altra si apre per i commentatori uno spazio interpretativo inedito si tratta quindi di stabilire ciò che aristotele intende sostenere e il senso di questa affermazione in questa incertezza i maestri si trovano costretti a stabilire la loro posizione appoggiandosi all'esterno cioè facendo riferimento ad altri passi del secondo e del terzo libro del de anima o anche a degenerazione animale per la provenienza dell'intelletto ab extrinsic o altre opere aristoteliche andiamo ora a verificare l'uso il modo con cui questi passi vengono commentati questi passi del primo libro in due commentatori mi sembrano diciamo due testi che mi sembrano particolarmente interessanti su questo aspetto il primo è la sentenza libri di anima di adamo di backfield mi sto riferendo alla prima redazione e farò riferimento all'edizione powell quella che l'unica che gotier ritiene che sia autentica è un testo prodotto intorno al 1245 o secondo regavood qualche anno prima quindi è un testo risalente alla prima metà del tredicesimo secolo il secondo invece è un commento anonimo in forma di questioni sul primo e sul secondo libro del de anima pur essendo adonimo è un commento molto noto ed edito da moris gille nel 1971 ed è noto perché qui compare la negazione della tesi dell'icomo intelligent il commento datato fra 1270 e 71 probabilmente per la redazione appartiene dunque alla seconda metà del secolo quindi alla fase più critica della ricezione del de anima alla facoltà delle arti e sembra rappresentare l'immediata reazione polemica al Deunitate Intellectus di Tommaso d'Aquino su questo testo come è noto hanno scritto in molti nell'ultimo ventennio particolarmente Alain Deliberat e Brené e mi riferisco in particolare agli studi al commento al Deunitate Intellectus del 2004 di Deliberat e al noto saggio dedicato proprio all'anonimo gille al rapporto con Tommaso di Brené. Nel commentare i luoghi del primo libro del de anima sopracitati Adamo di Backfield impiega le espressioni action anime action intellectus cosa che non fa alcuna meraviglia essendo questi fortemente debitore nell'esegesi e nel linguaggio dal grande commento alle anima di Averroè. Tali actiones sono anzi concettualmente le protagoniste dell'intera argomentazione. Actiones se vedete in eretto i psius intellectus cui usmodi sinti l'intelligere et amare tu dire non sunt passionesi psius anime sive intellectus per sé sed coniuncti scilicet ominis abentis animam in quantum uiusmodi. Il secondo passo è il testo 4 sempre riferimento alle actiones anime nullum istorum inerit anime separate scendum quod intelligere amare e remumorare inerunt anime separate sicut et nunc sed non eodem modo. Secondum quod auteme inerunt anime separate inerunt ei sine omni indigenzia fantasmatis qui a secondum sua sumam substanziem. Adamo sostiene nel testo 3 che le actiones intellectus cui intelligere amare tu dire non sono passioni dell'anima o dell'intelletto di per sé poiché in virtù del fatto che essi coinvolgono il corpo nella loro realizzazione pertengono l'intero essere umano in quanto dotato di anima. Finché il fantasma è necessaria la conoscenza intellettuale ancora allora anche le actiones dell'intelletto sono destinate alla corruzione mentre non lo è la sostanza dell'intelletto stesso che è incorruttibile. Così conosce ama e odia l'essere umano mentre è il testo 4 quando l'anima e qui chiaramente si intende l'anima intellettiva è separata dal corpo essa esercita tali actiones in una modalità che è differente cioè attraverso la sua sostanza incorruttibile e allora conosce la causa prima la ama e trovando in ciò il massimo godimento ottiene la beatitudine. Adamo risolve dunque i molteplici dubbi sollevati da de anima e tra loro interrelati distinguendo due modalità cognitive per la prima è richiesto il fantasma perciò questa non si dà senza il corpo e l'immaginazione e in questo caso le azioni se non sono dell'anima ma dell'essere umano che ha l'anima in quanto la possiede. La seconda modalità invece è quella che è proprio è propria dell'anima intellettiva separata dal corpo e non richiede la presenza dei fantasmi perché essa conosce in virtù della sua sostanza incorruttibile e in questo caso semplicemente Adamo non precisa quale sia il soggetto di quelle azioni sanime che si realizzano in maniera indipendente dal corpo. Veniamo ora al secondo testo l'anonimo Gill. Anche qui il commentatore affronta il dubbio sollevato nel primo libro del de anima se l'intelligere sia riferibile all'intelletto o al composto umano. Secondo la prassi nota dei commentatori. È esattamente in questo punto che l'anonimo comincia a formulare l'apparentemente sorprendente risposta che trova poi la sua piena espressione nella questio 4 del secondo libro. È il testo 5. Un decodomo proprio sermone intelligit non concedo. Secondo l'anonimo Gill non si può dire che sia l'essere umano in senso proprio a conoscere o pensare o intendere e questo non perché il corpo non svolga un ruolo in quella che l'anonimo chiama operazione non action operazione operazione intellettiva. L'anonimo aveva infatti precisato nella questio 6 del primo libro che è proprio sulle passioni sulla possibilità che l'anima abbia una passione abstracta. De qua dico sic quod operazionem intelligenti est communem anim et corpore. Il pronto cruciale è quindi la definizione del ruolo del corpo che svolge qui la funzione dell'oggetto e non del soggetto dell'operazione conoscitiva. Set anima prosegue il testo indiget corpore sicut obiecto non sicut subiecto. Nell'argomentare la sua posizione nella questio 4 del secondo libro l'anonimo si richiama infatti esplicitamente più volte addirittura tre volte è proprio la dimostrazione di quella affermazione che abbiamo visto sopra. Si richiama più volte al primo libro del de anima è il testo 7 nunc autem aristoteles videtur determinare primo uius quod intelligere non est proprio manime set anima et corpori et modus per quem est comune corpori quoniam non est sine fantasmate. Ocautem non est intelligere ut sinteligerit sit perfeccio ominis set eget ominem omine ut obiecto e prosegue sotto se vedete eget qui il soggetto è intelligere tamen materiali corpore ut obiecto non ut subiecto suo e protanto est dicere ominem intelligere tamen non est ita ut dicimus omines sentire si dicas quod propri omini converit intelligere non est probatum etidio est negandum aristoteles oc videtur sentire primo de anima. L'intelligere dunque non deve essere inteso come una perfezione dell'essere umano allo stesso modo con quella si intende si intende la vista perché è un alcunché di separato della materia e tuttavia l'intelligere necessita del corpo come suo oggetto si noti qui come omo si è impiegato come sinonimo di corpus e questo è un uso guardo guardo dragos calma è un uso che fa normalmente anche sigeri quello di usare corpus come sinonimo di omo o di nos anche il corpo umano è infatti ciò che predispone i fantasmi ossia i prodotti dell'immaginazione senza i quali non si dà l'operazione dell'intelligere è in questo senso cioè in virtù del fatto che il corpo umano o anche l'omo è l'oggetto dell'operazione dell'intelligere che si può affermare omo intelligent in questo senso dunque è improprio. Tutta l'argomentazione dell'anonimo si configura dunque come un tentativo di risoluzione dell'incertezza del passo del primo libro del de anima dove aristotele sembra suggerire che l'operazione intellettiva aspetta all'uomo e non solo all'anima l'anonimo intende spiegare il senso di questa affermazione e più precisamente il senso con cui questa vada accolta in relazione ad aristotele. Vengo ora alle conclusioni abbiamo visto come i già citati luoghi del primo libro del de anima rappresentino un momento cruciale in cui sia Adamo di Buckfield sia l'anonimo Gilles qualche decennio dopo fanno i conti con il dubbio relativo al soggetto proprio dell'intellizione. Entrambi nella costruzione della loro scienza de anima seguendo il suggerimento di Aristotele si sforzano di attribuire all'uomo l'operazione o azione intellettiva perché così dice Aristotele nel primo libro argomentando che l'intelligere richiede la presenza dei fantasmi e quindi di una qualche comunicazione pur mediata tra intelletto e corpo. Secondo un uso tradizionale dei commenti della prima metà del secolo Adamo introduce però una diversa modalità di intellezione che è quella propria dell'anima separata dal corpo e sta conosce infatti indipendentemente dai fantasmi per contemplazione diciamo così della causa prima in questa attività anzi consiste la sua beatitudine. Si tratta di un tipo di considerazione che è solitamente come lo è anche da Adamo in apertura della sua sentenza e anche nel terzo libro ricondotta ad una prospettiva che non è tanto escatologica ma metafisica. Non spetta al filosofo naturale infatti indagare lo statuto e le modalità di operare dell'intelletto se non in considerazione della sua relazione con il corpo. La prospettiva dell'anonimo di Gilles sul punto appare andare in un'altra direzione. Il discorso è incentrato sulla relazione intelletto corpo tipica del filosofo naturale e tipica del de anima una prospettiva che pone al centro la naturalità dell'unione tra l'intelletto i fantasmi e tra l'intelletto e l'uomo. Rimane però un dubbio che è dovuto all'assenza nell'anonimo Gilles delle questioni sul terzo libro. A questa sezione del commento lo stesso autore rimanda proprio nella question 6 del primo libro quella che abbiamo più volte citato dedicata al nostro tema e vedete il testo 8 quindi l'anonimo Gilles non rimanda tanto al secondo libro la questione che abbiamo letto eh che in cui si trova la l'affermazione la negazione eh con la cosiddetta negazione dell'icomo intelligent ma rimanda al terzo che noi non abbiamo dicendo ma doc set qui a inferius magis abebit locum ut terzio uius idio breviter est transeundum. Mi pare questo un caso emblematico dei problemi caratteristici di questa tradizione di testi il primo tra i quali è la loro sfortunata trasmissione essendo sovente mutili e incompleti lasciano aperti dubbi che sono anche interpretativi impedendoci di dare risposte definitive.